Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di StarCraft 2, secondo match tra Hero, vincitore del primo match con una tattica abbastanza aggressiva che ha chiuso in base all'avversario e poi gli ha permesso di overmacrarlo e infine vincere e Rain che di rimando ha subito la tattica dell'avversario e non si è sentito sicuro nell'espandersi temendo un all-in più spinto dell'avversario, all-in che alla fine non è arrivato ma a quel punto l'avversario si era già espanso e Rain ha semplicemente ritardato un po' l'inevitabile quindi la mappa dovrebbe, attenzione cosa sta succedendo qui, Rain decide di proxare il suo portale quindi sotto di un match prova subito a riportare in parità il conteggio dei match vinti, sta 1-0 per Hero e Rain prova subito a portare in pareggio con questo all-in quindi perché di all-in si tratta abbiamo un doppio portale probabilmente dato il gas che è stato preso in questa zona da parte di Rain vedremo anche il centro cibernetico in questa zona esatto, non viene messo in produzione nessuno Zelota ma verrà semplicemente, probabilmente sarà un all-in di Stalker, no c'è subito lo Zelota che viene mandato a fare danni Hero non sospetta di nulla addirittura parte con due gas con due sonde quindi income di gas è leggermente superiore alla norma per Hero che però non sospetta nulla questo qui è un ottimo posto per proxare, esce il primo Zelota, non esce nessuna sonda per quanto riguarda Hero Hero che è completamente scoperto, comincia la produzione di Stalker in questo momento per Rain che si fa chiudere lo Zelota in questa zona ma questo Zelota si è già portato a casa una sola sonda, soltanto una sola sonda, due in questo momento ottima la micro di Rain che praticamente leva dal di qui le sonde che vengono attaccate vediamo che forse proverà a chiudersi in questa zona ma è già uscito uno Stalker, sta uscendo già il secondo e il terzo Stalker ha un solo portale Hero mentre ne ha due Rain, esce il nucleo della Naio Madre che però deve caricarsi per poter lanciare un Fotonover, addirittura Rain mette un pilone qui sopra la rampa perché sta anche ricercando, no non sta ricercando nulla per avere probabilmente la visuale si focussano sul nucleo della Naio Madre questi Stalker, arriva anche il terzo Stalker in arrivo probabilmente anche il quarto tre Stalker contro uno più il nucleo della Naio Madre vediamo che vengono cecchinate sonde su sonde, arriva anche il secondo Stalker questo pilone è stato costruito per fornire supply probabilmente ha preso però un sacco di sonde, perde il nucleo della Naio Madre e tutte queste sonde stanno stanno semplicemente ritornandoli inevitabili in seguimento di Stalker con sondini in mezzo la gattona pazzesca mentre nel frattempo continuano questi sconti è uscito un altro Stalker dai due portali di Rain e stanno uscendo altri due mentre cosa sta succedendo in questa zona sta semplicemente portando, allontanando l'esercito di Iero dalla sua base qua abbiamo questo Stalker, questi due Stalker che stanno per rientrare in base, probabilmente ha dovuto chiamarli in base per difesa questi due Stalker hanno pochissima vita, ci sono anche queste tre sondini che possono veramente dare fastidio è fastidio, va giù uno Stalker, va giù probabilmente anche il secondo sì, questo Stalker è stato circondato e va giù vediamo se verrà circondato anche questo Stalker, è costretto a micrare in questa zona Iero forse a richiamarlo verso casa mentre qui da basso abbiamo altri tre Stalker con un quarto in arrivo che stanno macellando sonde su sonde andiamo a vedere la differenza di unità, naturalmente ha più sonde Iero rispetto a Rain ma il numero di sonde di Iero è destinato a ridursi drammaticalmente abbiamo altre due Sonde, uno Stalker che provano a portare un attacco in questa zona, non è stato ricostruito il nucleo della nave madre non sta minando gas Iero, quindi tra poco si ritroverà a corso di gas per fare gli Stalker, Stalker che sono diventati 4 per Rain c'è il controattacco in questa zona da parte di questo Stalker che si è portato a casa, 4 sonde andiamo a vedere il numero, sono 8-8, parità completa, sconto fra sonde, a questo punto queste sonde vanno a circondare questo Stalker che viene circondato sì, a questo punto questo Stalker verrà perso, viene perso questi lavoratori e ora che tornino a lavorare nel frattempo però i 4 Stalker di Rain hanno fatto dei discreti danni, siamo a 6 sonde contro 2 a questo punto è molto probabile che vedremo un GG da parte di Iero, il quale sta semplicemente ritardando l'inevitabile ha ormai perso tutto, dà il GG e Rain si riporta sul 1-1 con uno degli all-in Protoss più famosi, Proxy Portale in questo caso una versione modificata perché di solito ne ho visti parecchi con un portale solo con due portali avanti di Zelotti oppure c'è anche questo con due portali del centro cibernetico per fare l'all-in a base di Stalker a portale chiuso Iero colto completamente di sorpresa, non gli si può recriminare nulla avrebbe potuto cercare di salvare quel nucleo della nave madre magari nascondendolo qui e poi attivando un Foton Overcharge per cercare di arginare l'all-in ma sotto di un portale rispetto all'avversario ha provato a portare un po' di danni di pressione in questa zona e di danni ne ha fatti però sono stati superiori danni di Rain alla fine, non aveva più Sonday Iero, semplicemente bene ragazzi, 1-1, se il video vi è piaciuto mettetevi in piaccia, iscrivetevi al canale condividete con i vostri amici, indirizzi mail, pagina di facebook, seppi in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video con il terzo match Grazie